Come si realizza un sogno, Laura? Allora, secondo me non è facile, però più che guardare all'obiettivo, nel mio caso è stato credere in se stessi, cioè credere in me stessa e in quello che è il mio profondo valore. Cioè la cosa che ho cercato di fare per prima è quella di capire quali erano veramente i miei punti di forza e qual era nel profondo ciò che mi distingueva. Io quando ho capito che suonando in un certo modo ero io e quindi ero diversa dagli altri, sono riuscita anche a farmi apprezzare a pieno e sono riuscita poi a realizzare i miei sogni. Non ho mai cercato di guardare alla mia ambizione quanto a guardare dentro di me, a rafforzarmi e trovare le cose belle e lavorare su quelle. Poi una volta che lavoro così, quindi in positivo, sulle cose belle che ho dentro, automaticamente le cose sono andate bene. Hai detto capire quali erano i miei punti di forza e questo può essere comune a tutti, mentre l'altra cosa hai detto guardare dentro me stessa e capire come volevo suonare io che era diverso dagli altri che invece questo può essere solo tuo. Ed è l'unicità delle persone, così come io dico, siamo unici e ripetibili, siete unici e ripetibili. Non esiste nessun altro come voi e allora devi partire da lì. Sì, sì, sono d'accordo. Devi partire da lì e su quello lavorare. Penso che sia così per tutti, per un artista a maggior ragione.